Le campane hanno suonato a festa sabato scorso per l'entrata in servizio di Don Steven Carboni nelle parrocchie di Fossombrone. Due, le realtà che il Don dovrà guidare, quella di Maria Ausiliatrice e San Martino, sostituendo così il grande operato di Don Giancarlo Carboni, che lascia l'incarico per i raggiunti limiti di età e trasferendosi poi come collaboratore pastorale a San Lorenzo in campo. Don Steven Carboni, nato a Fano il 22 luglio del 1979, è stato ordinato prete il 22 ottobre del 2005. Ha guidato per nove anni come vice parroco alla parrocchia del Vallato di Fano e negli ultimi quattro anni è e sarà sempre a capo della pastorale giovanile, direttore del centro diocesano Vocazioni e degli altri rincarichi, rimanendo sempre a servizio per i numerosi giovani della diocesi. La celebrazione si è svolta in serata all'esterno dell'area della parrocchia San Martino, con tutti gli accorgimenti del caso dovuti al coronavirus. Tanti i fedeli e altrettanti i ragazzi provenienti da Fano, Fossombrone e dalla diocesi. Presente alla celebrazione anche l'amministrazione comunale che ha dato il benvenuto al parroco. Con loro anche numerosi sacerdoti del territorio e il vescovo Armando Trasarti che ha ricordato al nuovo entrato di prendersi cura della chiesa ma anche delle persone che vivono e frequentano Fossombrone. Sicuramente una grande emozione, una bellissima serata perché ci sono stati tanti forse impronesi che hanno sentito questo passaggio nella vita della comunità parrocchiale che non è solo un passaggio della mia vita ma della storia di queste parrocchie. Ringrazio il vescovo per la fiducia e per avermi affidato questo incarico che non riguarda solo Maria Usiliatrice e San Martino ma un cammino di comunione di tutta la città di Fossombrone insieme con Don Giancarlo dei Santi, con le parrocchie del Duomo, di Sant'Antonio. Approfitto per dire un grazie speciale a Don Giancarlo Carboni che inizia una sua nuova piccola missione a San Lorenzo in campo per i suoi 25 anni qui. Insieme con Suor Camilla sappiamo che eredità si raccoglie ma la cosa bella e grande penso sia la voglia e il desiderio di camminare guardando avanti, non sempre rimpiangendo il passato ma riconoscendo che ci sono un sacco di giovani che hanno voglia di camminare dietro il Vangelo, dietro il Signore e questo dobbiamo farlo tutti insieme. Ringrazio di cuore anche il Comitato San Martino e tutta la comunità parrocchiale che si è smossa veramente tanto e è stato piacevole lavorare insieme, conoscersi lavorando insieme per allestire tutto questo che ha permesso una bellissima celebrazione eucaristica e anche un grande momento di festa che naturalmente i giovani e i parrocchiani hanno preparato e per cui grazie di cuore a tutti. Con l'ingresso di Don Steven Carboni sabato a Fossombrone e di Don Diego Fascinetti a Cagli domenica scorsa si concludono così tutti gli ingressi e le nuove nomine della diocesi di Fano Fossombrone-Cagli-Pergola.